Ormai da decenni gli scienziati stanno cercando di ottenere sangue artificiale sia per ampliare le risorse che oggi sono disponibili grazie ai donatori che per rispondere alle esigenze di pazienti con quadri clinici particolari. Si tratta tuttavia, come vedremo, di un obiettivo non così facile da raggiungere. Ne parliamo con Sergio Siragusa, professore di ematologia all'Università di Palermo e vicepresidente della società italiana di ematologia. Buongiorno professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Professore, dunque, cosa significa innanzitutto produrre sangue artificiale tenendo conto che stiamo parlando di un tessuto composto di diversi elementi? Sì, infatti, proprio nell'opinione comune si pensa che il sangue artificiale sia una singola entità. In realtà si tratta di un composto molto complesso che è caratterizzato sia da una parte cellulare, costituito quindi dai globuli rossi, dai globuli bianchi e dalle piastrine. Queste, diciamo, tre serie di cellule hanno dei ruoli fondamentali. I globuli rossi trasportano l'emoglobina e l'ossigeno, quindi servono, diciamo, per la vita libera ai tessuti. I bianchi ci difendono dall'infezione e le piastrine evitano le emorragie. Più c'è una parte liquida che il plasma, anche quello fondamentale per mantenere, ad esempio, la pressione arteriosa, quindi una normale pressione vitale. Tutte queste componenti sono ovviamente indispensabili per la vita. Quindi quando noi abbiamo un paziente che ha un problema, diciamo, di sangue, dobbiamo capire a quale di questi componenti ci dobbiamo riferire. Se un paziente anemico avrà bisogno di globuli rossi, se un paziente invece che sta sanguinando avrà bisogno di piastrine. Per quanto riguarda invece i globuli bianchi, questi non possono essere trasfusi, in quanto essendo, diciamo, il cuore del sistema immunitario, l'eventuale trasfusione di globuli bianchi da doni e toli crea tutta una serie di problemi per cui tanti anni fa si è evitato fondamentalmente questo tipo di trasfusioni. Perché è molto importante trovare, diciamo, dei sostituti o perlomeno avere una produzione illimitata, o perlomeno lo più possibile, di globuli rossi e di piastrine. Questo perché chiaramente la richiesta di trasfusioni, soprattutto da globuli rossi, è una richiesta molto importante, non soltanto nel mondo occidentale ma in maniera ubiquitaria. Questo perché i globuli rossi servono non soltanto per curare, portare delle emorragie gravi in caso ad esempio di incidenti, ma ci sono molte patologie prevalentemente ematologiche in cui il sangue viene prodotto in maniera deficitaria o qualitativamente non idonea, per cui è necessario dare delle cellule che siano fisiologicamente attive. Già nel Vietnam, quindi ormai quasi 50 anni fa, vi era l'esigenza di poter dare dei composti che potessero stabilizzare i pazienti che avevano dei traumi bellici importanti. Quindi mostra della ricerca in realtà è partita proprio dalla medicina bellica. Quali sono i principali approcci per raggiungere questi risultati, per ottenere dei sostituti del sangue? Se noi parliamo della parte liquida, quindi del plasma, in realtà noi abbiamo già dei prodotti a disposizione, sono fondamentalmente delle soluzioni che mimano un po' quello che è il peso molecolare del plasma, quindi funzione di osmosi corretta, quindi mantengono il giusto scambio, diciamo, tra i vasi all'interno e all'esterno dei vasi e questi sono i cosiddetti plasma expander. Se io devo produrre dei globuli rossi nuovi, è qui la vera sfida della scienza, come lo posso fare? Il primo è quello di non produrre dei globuli rossi reali, ma produrre delle sostanze che fondamentalmente mimano l'azione dei globuli rossi reali. E il globulo rossi che cosa fa? Trasporta ossigeno. Lo trasporta grazie all'emoglobina, che è una proteina che si trova all'interno del globulo rosso. Da più di 30 anni in realtà si sta cercando di utilizzare questi trasportatori di ossigeno che utilizzano o l'emoglobina sintetica oppure dei prodotti di sintesi. Qual è il vero problema? Che se si utilizza l'emoglobina, anche quella sintetica, l'emoglobina è tossica quando è al di fuori del globulo rosso, quindi fondamentalmente questi prodotti, che non sono ovviamente fisiologici, ma sono di sintesi, possono avere una serie di effetti collaterali. L'altra strada è quella invece di prendere le cellule che producono il sangue, da dei donatori, farle crescere in laboratorio, selezionare quelli che producono i globuli rossi e poi infondere questi globuli rossi nei nostri donatori. Entrambe queste strade attualmente sono in fase sperimentale. Quali sono le principali difficoltà che si incontrano nella realizzazione di questi obiettivi? Andiamo su quello che è l'articolo che è uscito recentemente su Science riguardo ad un prodotto nuovo che si chiama Eritromere, che in realtà è stato presentato anche al 58esimo Congresso Internazionale di Ematologia che si è tenuto a San Diego l'anno scorso. Come ho detto, il vero problema è che quando io utilizzo l'emoglobina di sintesi, oppure quella da donatore, quindi quella umana, se io lascio libera questa emoglobina, questa emoglobina una volta che ha rilasciato l'ossigeno, l'emoglobina prende l'ossigeno al polmone e lo rilasciano i tessuti, una volta che ha fatto questo, quindi l'emoglobina libera, quindi ha perduto la sua funzione principale, una volta che libera nel plasma fa danno, perché altera quello che è il sistema di contrazione, di dilatazione dei vasi sanguigni, può determinare ipertensione renale, può determinare tensione arteriosa, danni renali, quindi mi serve a fare in modo di proteggere questa emoglobina dalla possibilità di liberarla nel plasma. In effetti due ricercatori americani hanno sviluppato una tecnologia, una sorta di membrana che riveste l'emoglobina, in questo caso da donatore, quindi un'emoglobina umana, con questa membrana che in qualche maniera fa fare l'emoglobina le sue funzioni fisiologiche, quindi di captazione e di rilascio dell'ossigeno, ma ne impedisce la sua liberazione nella fase, diciamo, di emoglobina free o libera, quindi evitandone i danni. Chiaramente questo approccio non è stato un approccio semplice, ora in fase di sperimentazione, però è probabilmente la strada più importante, perché nel momento in cui noi invece utilizziamo delle membrane che in qualche maniera permettono di rilascio dell'emoglobina anche se da sintesi, questo in realtà può creare più effetti collaterali negli eventuali riceventi. Ci sono delle sperimentazioni cliniche in corso e, le aggiungo, esistono dei prodotti già approvati da enti regolatori? Per quanto riguarda i paesi Europa e Stati Uniti, ancora noi non abbiamo, quindi, che vengono sottoposti gli enti regolatori dell'FDA e dell'EMA, non abbiamo ancora dei prodotti che possono essere utilizzati. Al di fuori dei plasma expander, ma che ovviamente si tratta della parte liquida, quindi diciamo di meno l'interesse. Per quanto riguarda invece la sintesi di queste nuove membrane, quindi la possibilità di incapsulare l'emoglobina, ad esempio l'eritromer, qui abbiamo effettivamente lo studio di fase 1, per cui si sta cercando di testarli anche negli umani. Fino adesso sono stati testati soltanto in animali di laboratorio e sta funzionando. In realtà la fase 1 che riguarda, quindi diciamo la fase iniziale di sperimentazione nei volontari sani di qualunque prodotto farmacologico, questo era stato iniziato per un posto simile all'eritromer, però prodotto in Giappone, poi è stato invece interrotto a causa della pandemia e ancora, a mio conoscenza, non sono riprese queste sperimentazioni. L'eritromer che è molto promettente, è ancora in una fase di animali di laboratorio, ma verosimilmente inizia la fase 1. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto per poter produrre globuli rossi, vale a dire il fatto di utilizzare delle cellule staminali da donatori, lì invece già un paio di anni fa è stato pubblicato un lavoro condotto in questo caso in Inghilterra, in cui effettivamente è stato somministrato, diciamo questo sangue, cresciuto in laboratorio, però da cellule staminali fisiologiche, quindi si tratta di un vero e proprio sangue, non è artificiale, in volontari, in due volontari e fino adesso non abbiamo registrato effetti collaterali. Le chiederei di soffermarsi un po' di più su sostituti del sangue ottenuti da cellule staminali. Le cellule staminali si trovano all'interno del midollo, il midollo è all'interno delle ossa, però una certa parte di cellule staminali in realtà tendono a circolare anche nel sangue periferico. Che cosa è stato fatto? Su alcuni donatori delle banche americane, questo è stato uno studio che è stato condotto negli Stati Uniti, su alcuni donatori quindi di sangue, sono stati prelevati una certa quantità di sangue e con sistemi di separazione sono state identificate e isolate le cellule staminali circolanti dal sangue periferico dei pazienti, quindi non è stato necessario fare un prelievo di midollo per ottenerle, ma semplicemente il sangue periferico. Queste cellule staminali circolanti sono state emesse in laboratorio, dopodiché sono state in qualche maniera stimolate con quelli che sono gli induttori che stimolano la cellula staminale a produrre globuli rossi. Quindi si stanno producendo dei globuli rossi da dei donatori che non saranno quelli che riceveranno il sangue, questo ovviamente è un dato estremamente importante perché in questa maniera noi possiamo produrre quante cellule vogliamo e le possiamo dare a chi vogliamo, ovviamente rispettando sempre il sistema di compatibilità del sistema B0 che è quello che regola la compatibilità trasfusionale. Di un altro aspetto molto importante, a parte in qualche maniera il potenziale di averne quante ne vogliamo, che queste cellule che vengono prodotte in laboratorio, che sono dei propri globuli rossi fisiologici, sono anche dei globuli rossi giovani e i globuli rossi giovani sono quelli che hanno, come dire, la maggiore funzionalità. Questi, diciamo, studi hanno già somministrato una piccola quantità di globuli rossi in due volontari, in questa fase ovviamente si vede se ci sono gli effetti collaterali, però chiaramente questi stanno funzionando, quindi diciamo abbiamo molti aspetti positivi da questo approccio, che ovviamente però richiede dei laboratori che le producono, mentre prodotti interamente di sintesi tipo l'eritromere o altri analoghi chiaramente sono svincolati da parte dai donatori, ma sono svincolati soprattutto dai laboratori di biotecnologia.